Bello ragazzi pirone bentornati in questo nuovo episodio del corner qui su melagodo Nuova squadra della settimana per le memes devo dirlo un po' particolare Però probabilmente perché arriverà a brevissimo il nuovo evento del cute birthday Quindi andiamo subito a vedere questi giocatori e partiamo con la serie Allora incominciamo subito il primo giocatore dei quattro che come sapete andiamo a vedere ogni settimana un po' più nel dettaglio È un giocatore dell'Everton che ha segnato un gol nel 2-0 dell'Everton in casa contro il Chelsea Quindi parita molto importante Abbiamo la versione da esterno destro il secondo if di Richarlison Questo Richarlison 86 merita abbastanza Ricordiamo che c'è anche la versione once to watch che però è esterno sinistro Quindi per chi ha il once to watch si upgraderà automaticamente Come vediamo è un ottimo giocatore perché ha molta velocità, ha un buon tiro, un buon dribbling Ma soprattutto ricordatevi che ha 5 di piede debole Quindi complessivamente vedendo anche gli altri giocatori di questa squadra della settimana È uno tra i più papabili, tra i più interessanti perché anche come super sub può sicuramente fare molto bene Per il secondo giocatore ci spostiamo in Francia, in Ligue 1 È il giocatore con l'overo il più alto di questa settimana E sta trovando un po' più spazio nel Paris Saint Germain dopo l'infortunio di Neymar Sta giocando un po' di più, sta facendo delle buone prestazioni Ha fatto doppietta e un assist nel 3-1 del Paris Saint Germain in casa contro il Marsiglia di Balotelli Abbiamo la versione 90 ATT, quindi attaccante, prima punta di Angel di Maria È un giocatore che abbiamo visto anche in passato Che è passato sempre un po' in sordina per il fatto che ha 2 di piede debole Quindi un po' limitato in game, soprattutto contro gente forte che vi copre il piede giusto Si fa fatica a passare Però ricordatevi che è uno skiller, quindi For Fun è sicuramente un ottimo giocatore I valori iniziano ad essere interessanti perché 91 di velocità, 92 di dribbling, 90 di passaggio L'87 di tiro che inizio anno si sentiva un po' il tiro di Di Maria che non era il massimo Sta iniziando a diventare interessante Quindi per me, sebbene questo giocatore non sia tipo il top player da metagame Dove proprio entra e distrugge e fa la differenza Questa versione qua inizia ad essere bella potente E con il terzo giocatore di oggi facciamo il nostro salto settimanale in Serie A nel nostro campionato Abbiamo De Vrij, 86 Uno dei pochi giocatori della Serie A che appare in questo Team of the Week Ha meritato il suo posto in questa squadra della settimana Per aver fatto uno dei tre gol dell'Inter nel derby Bellissimo derby Inter-Milan 3-2 vinto fuori casa dall'Inter Bella partita, lui ha fatto un gol importante Poi è riuscito in qualche modo a salvare la difesa interista Reggendo fino alla fine sulla rimbalgio finale del Milan Si merita questo suo primo IF dell'anno Non è un giocatore così potente a prima vista Ha 88 di difesa che è ottimo La velocità è un po' lì Con ombra, diciamo che con ombra come stile di intesa Questa carta inizia a guadagnare del valore interessante Per la difesa della Serie A Che comunque ha tanti rivali Ha tanta concorrenza tra Chiellini, Koulibaly Insomma, ce ne sono un po' Deve giocarsela un po' Però tutto sommato per il costo che avrà Può essere un buon difensore Quarto e ultimo giocatore che andremo a vedere nel dettaglio oggi È il Cicciarito Hernández 84 Si è strameritato questo IF questa settimana Perché ha permesso al West Ham di cambeccare Una partita ormai persa contro l'Adder Spiltown in casa Erano sotto 3-1, poi 3-2 di Obbonna E negli ultimi 10 minuti doppietta del Cicciarito Che ribalza la partita Facendo vincere 4-3 il West Ham A livello pratico non è chissà che cosa come giocatore Anche perché è uscita già la versione flashback del Cicciarito Che è decisamente più forte di questa Però la menzione d'onore era d'obbligo Per la gran partita che ha fatto questa settimana Ora come sempre dopo aver visto i primi 4 giocatori Andiamo un po' a elencare e a vedere Anche gli altri giocatori che sono presenti In questa squadra della settimana Abbiamo in Porta Gurtner In difesa De Vrij, Vieirigna e Genet Dovrebbe chiamarsi così o qualcosa di simile In centrocampo abbiamo Richarlison, Delaney, Portu e Luis Alberto Davanti di Maria Hernandez e Cruz Effettivamente ne abbiamo visti di migliori di Team of the Week Questo qua probabilmente è un po' scarico Per il fatto che un sacco di giocatori Usciranno in versione speciale da domani in teoria Perché ci sarà il Flutebird e il nuovo evento Dove un sacco di giocatori usciranno Sera come l'anno scorso Usciranno con ruoli differenti Anche perché questa settimana ci aspettavamo Tutti quanti probabilmente un nuovo Messi Per quello che aveva fatto sia in Champions Che nel fine settimana Anche altri giocatori potevano sicuramente Entrare in questo Team of the Week Ma effettivamente vedendo questi giocatori qua Ci fanno capire che probabilmente Molti usciranno nella versione speciale Per l'evento dei prossimi giorni Quindi con molta fiducia e curiosità Aspetteremo questo nuovo evento Vedremo che giocatori usciranno E in che modalità, in che ruoli E con quali potenziamenti Tra l'altro, come sempre, come ogni settimana Anche oggi abbiamo un ospite qui con noi Oggi abbiamo il frene Il carissimo frene Che ritorna per farci vedere la sua squadra E le sue tattiche Linea al nostro frenesia Ciao ragazzi Quest'oggi il nostro Ronnino Ha deciso di disturbare il mio letargo Quindi adesso sono qui a farvi vedere La mia squadra, le mie tattiche E che pantaloni c'ho Cioè pantaloni del Real Madrid Allora, iniziamo con il modulo Dovrei avere il rombo Che utilizzo da 4 anni su FIFA Che è quello che mi ci trovo meglio Utilizzo ripiega 4 di profondità Che in realtà avevo messo 3 Quindi non so perché 4 Dopo le numerosi patch Avete notato che la CPU va un po' dove gli pare Quindi poca profondità Consiglio E ripiega Che ti rientrano in difesa Purtroppo è un modo di giocare molto brutto Però ahimè Se non utilizzo ripiega O a volte equilibrata Non mi ci trovo proprio Perché la difesa è un disastro Completamente La disposizione della squadra È la seguente Mbappia a sinistra Putraghegnu a destra Che rientra con 5 ripiede debole Molto utile Ne marcio C Ballack e Pogba C-C Ballack è un po' che puzzolente Ma ahimè Questo è quello che passa al convento Non scambiabile Cante C-D-C Che mi ci trovo sempre bene Difesa Marco Salonso Ferdinand Varane Carval E Van Der Sar Che penso che sia stato L'acquisto Anzi L'SBC Più scadente di sempre La difesa Ferdinand Varane Ferdinand Il suo lo fa Varane pure Normale Ho provato il Todi Non mi cambia niente I terzini Non sono tutto questo Granché Un po' lenti Però I crediti Sono quelli che sono Magari qua Mendimi Ci trova un pochino meglio Però anche Marco Salonso 88 C'ha una bella cartina Non la schifo Perché ha fatto l'SBC Carval Qua a destra Lo consiglio Se magari Dovete proprio Ibridare qualcuno Di specifico Altrimenti Vi consiglio Aurier UCL Live Che mi ce l'ho trovato Molto bene Centrocampo Ballack 456 game 64 gole 118 assist Delle partite Sembra quasi sveglio Il restante È tipo un minion Kanté 1300 game L'ho trovato Non scambiabile In inizio gioco Non l'ho più levato E Pobba Pure non scambiabile Anche lui Il suo lo fa 5 di skill Molto utili Bappé l'ho ricomprato Perché gira gira È quello che mi piace di più Come attaccante Ovviamente Preferirei accostarlo Magari a un attaccante Più massiccio Tipo Cristiano Ronaldo Anche se non è che mi fa impazzire Però i crediti Ora come ora Non ce l'ho Quindi c'ho Butraghiegno Che lo uso Da assist man In poche parole 132 game 138 assist Su 300 partite Tante volte è entrato Da sostituto Quindi Non c'è male E Neymar Che un po' Mi pulsa Lì c'ho il C Ma pure che in questo caso Il convento passa questo 48 game 15 gol 13 assist In panchina c'ho Hazard Nedved Ibra E Danielino De Rossi Che mi sono pentito Di brutto Di non aver fatto David Luiz Che a parer mio È uno dei difensori Più cancerogini Quindi Appena è uscita La sfida Da Danielino Ho visto che In game C'ha tipo 2400 punti De cose C'ha tipo tutto Gli manca Giusto un po' De velocità Che con ombra Gli vai a mettere Quel qualcosina in più E ibra Insomma Questa è la mia squadra Io Raga Spero di vedervi Presto Adesso passo la parola A Ronnino Che deve concludere Il video Ciao belli Grazie Frene Per il tuo contributo Come ogni settimana Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questo team of the week Cosa ne pensate Della squadratta del Frene E anche se pensate Che sia giusto Il ragionamento Che ho fatto io Di avere un team of the week Un po' più scarico In attesa Del prossimo evento Come sempre vi ringrazio Ragazzi Vi ricordo C'era un bel mi piace Ci vediamo qua Su me la godo Come ogni mercoledì Settimana prossima Alle ore 16 Con un nuovo episodio Del Corner Per oggi abbiamo finito Ragazzi Qui da non è tutto Alla prossima Ciao